Durante la guerra nel 1943, fece parte del partito d'azione svolgendo l'attività di staffetta, rimanendo anche ferita durante la liberazione di Milano, proprio mentre si trovava nei pressi del piccolo teatro, dove lavorava ad uno spettacolo. Nel dopoguerra, sopravvissuta ad un tentativo di suicidio nel 1949, ripresee la sua attività, lavorando in opere classiche e moderne con Vittorio Gasman e con Tino Carraro sino all'abbandono delle scene negli anni Ottanta.